Nell'orchestra mi ha cambiato molto perché mi sono aperto più alle persone e diciamo sono stato più felice di stare più così. Invece il contrabbasso mi ha aperto proprio un altro mondo che usavo sia come sfogo che per avere un'altra chiave per aprire un altro mondo. Un mondo per diciamo per avanzare con la musica e non con la baby gang come ne parlano alla sanità. Sanit Assemble è un'orchestra di ragazzi che vengono dai vicoli di Napoli da un quartiere purtroppo spesso conosciuto per vicende di degrado e criminalità in rione Sanità. Attraverso la musica questo gruppo di adolescenti vuol così regalare un futuro diverso a se stessi ma anche all'intero quartiere. Si deve invece mettere luce sulle cose belle che accadono e che servono proprio a fronteggiare quelle notizie negative che possono essere allontanate solo attraverso attività come queste, attività che mettono in evidenza la parte sana, la parte buona. L'orchestra si è esibita nella pieve di Romena nel corso di una giornata intitolata semplicemente vivere, dedicata a raccontare le storie di chi riesce a dare valore al proprio presente ma anche a riscattarlo come nel caso di questi giovani. L'ha cambiata, cioè sono maturato perché comunque ho preso delle mie scelte perché le ho scelto io e continuo a studiare. Comunque è un'esperienza che ti forma anche a livello di serietà, cioè comunque inizia a pensare con un'altra testa e non più da bambino che vedi, cioè comunque c'è sempre il divertimento di un bambino però che fa una cosa che può servire nella vita.